E' Venezia l'amore, che cosa ne pensa dell'amore? Chi è questo signore, questo caballero? Vieni qui, ha un grande pittore di Viareggio, il mio amico, il mio amico... Di tuo nome, come ti chiami? Bruno Tintori. Bruno Tintori, che cos'è per te l'amore? L'amore è una cosa talmente grande che alla mia età, che ho 65 anni, non so ancora se l'ha creata Dio oppure l'amore abbia creato Dio. Bello, 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 mi piace, bravo, bravo Tintori. Chiediamo un po' ancora, chi c'è ancora, vediamo un po'. 4, 3, 2, 1, ecco, viva, viva il 1982, viva! Voliamo felici verso il 1982, volare! Più forte, cantare, viva, viva tutti!